Un'alta colonna di fumo che si solleva dalla raffineria di Milazzo. E' scattato così il nuovo allarme incendio all'impianto Mamertino alle 9.35. Sarebbe stato avvertito un buato, un rumore sordo dalla popolazione. Poco dopo è stato notato il fumo. Le fiamme, secondo il racconto di alcuni testimoni, si sono alzate per decine di metri superando anche una delle colonne di scarico della raffineria. In città è scattata l'allerta a molti gli automobilisti che hanno fermato le proprie auto per capire cosa stesse accadendo. Tanta la gente affacciata ai balconi di casa, persino i commercianti hanno fatto capolino dalle loro rivendite per rendersi conto di cosa stava succedendo. L'incendio sarebbe stato provocato dalla fuoriuscita di prodotto da una tubatura della zona all'atomare a nord-est, quella che si affaccia verso San Filippo del Mela. A domare l'incendio ci hanno pensato la squadra antincendio e la raffineria poco dopo raggiunta dai vigili del fuoco, tre feriti che sono stati trasferiti al 118 al pronto soccorso dell'ospedale Fogliani di Milazzo. Hanno 46, 32 e 37 anni, si tratta di due operai delle ditte dell'indotto e uno della RAM. Sono state diagnosticate due estioni e un trauma legato a una caduta. L'uomo di 46 anni è stato trasferito con l'elisocorso a Catania con delle estioni al volto. Le condizioni comunque non sarebbero gravi. Sull'episodio è intervenuto anche il presidente dell'associazione ADASC, Peppe Maimone. La popolazione è seriamente preoccupata, alcuni cittadini hanno abbandonato le proprie case. Purtroppo non c'è stata una comunicazione tempestiva sull'accaduto, indispensabile e urgente verificare la compatibilità di alcuni impianti e serbatoi con il tessuto urbano, considerato che la raffineria è confinante con centri urbani. Attendiamo, conclude Maimone, di conoscere in dettaglio la situazione dell'accaduto. L'associazione sta informando tutte le autorità competenti in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. La procura di Barcellona nel frattempo ha già aperto un fascicolo.